grandissimo saludatore tu sei grandissimo quando hai fatto quelle cose poi in giù il palo, sei straordinario straordinario è la parola giusta allora 92.000 io devo ringraziare Fiorello, te e tutti quanti eccoci qui e ti voglio chiedere un saluto a tutti i fan di 92.000 e per la giornalista Tiziana che ha fatto questo articolo un saluto a tutti i fan di 92.000 ma soprattutto ai fan di Tiziana e la seguono sempre nella rubrica il saluto a tutti la rubrica saluto è dentro il saluto a tutti colpato, Tiziana Cialdea e il direttore Roberto Alessi eccolo qua facciamolo vedere a tutti lo conosco abbiamo salutato tutti? salutiamo ovviamente sempre viva Rai 2 l'ultima persona a salutare sai chi è? il saluto a tutti ciao 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 Grazie a tutti.